Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, mi chiamo Wilbur Schmitz e gestisco l'impianto di Bioman e l'impianto di Sesa dove trasformiamo il rifiuto e il ricordo differenziato all'umido e il verde in varie risorse. L'input del nostro impianto è scarti di cucina, verde e sfalci. Con i vari sistemi che abbiamo la trasformiamo in energia elettrica, l'energia elettrica prima per far funzionare i nostri processi, 70% dell'energia che è prodotto, l'energia elettrica va nella rete e 30% usiamo per i nostri processi. L'energia elettrica ovviamente produce energia termica, colore, qua lì viene recuperato prima per i nostri impianti e tutto il resto per la rete di telerescrivimento dove abbiamo collegato vari enti e privati. Produzione di Biometano, Biometano è il primus per far funzionare la nostra flotta che fa la raccolta dei rifiuti, ovviamente producendo Biometano hai un scarto di CO2, qua lì viene liquidato e venduto, poi abbiamo l'amandante compostato misto e poi alla fine l'acqua pulita. I primi prodotti sono tutti i prodotti che vengono venduti, a parte l'acqua pulita e proprio l'acqua che serve per i nostri processi. Il processo è illustrato qua, il materiale viene conferito, viene preparato per i vari processi, viene fatta una triturazione e una vagliatura. La triturazione è un sistema che è tutto il materiale poposa, viene popato e passa da un foro di 25 mm. Quello che è più grande e quello che è fibrosa va avanti e viene diviso in due fraccioni, la fraccione pompabile e la fraccione solida. La fraccione pompabile va avanti in digestione anaerobica liquido e la fraccione solida va avanti in biossidazione. Il biodigestore produce biogas, di cui abbiamo bisogno per produrre energia elettrica per far funzionare tutto l'impianto. Poi abbiamo collegato un impianto di upgrading che produce biometano e CO2. Il restante del digestione anaerobica, il digestato, non viene utilizzato nell'agricoltura come impianti che vanno con prodotti agricoli, ma viene riutilizzato internamente l'impianto. Il tramite centrifuga viene separato il solido dal liquido, il liquido va nel depredatore biologico e produciamo la nostra acqua, così non avevamo bisogno neanche l'acqua, produciamo la nostra acqua e poi il solido va sul biossidazione. Qua vedete il punto di scarico e due tipi di tipologia di rifiuti che entrano, sono sfalci di erba da protetture e l'umido e l'organico della cucina. La prima fase, la fase solida, va nelle biocelle. Le biocelle sono contenitori chiusi, controllati, dove controlliamo l'ossigeno, l'umidità e le temperature, per garantire un processo ottimo per, prima, rigenizzare 70 gradi per un giorno successivo, e un altro 5 giorni 60 gradi per rigenizzare il materiale. Viene fatta una matrice tramite il verde, il materiale strutturante, il suo vallo, quello che usiamo come inoculum della matrice, il digestato e il centrifugato, e la parte solida che non è andata in digestione anaerobica. Ora, otteniamo un processo che ha una durata di 60 giorni in un pianto di Padova, e 90 giorni in un pianto che abbiamo qua a Magnago. Sono tutti un processo che viene controllato la temperatura, le prime fasi parlavamo 60 gradi, dopo 8 ore e 60 giorni, i primi 16 giorni, 60 gradi, 8 ore e 45 giorni, 60 giorni, andiamo in tono a 45-50 gradi. Dopo un processo, adesso andiamo avanti, dopo un processo, il materiale viene avvaliato, e se proviamo, avvaliamo 15 mm, e il materiale diventa un compost. Il compost viene riutilizzato nei terreni come fertilizzanti, e ultimamente abbiamo tantissime domande sulle viticolture. Una parte del compost viene messo in sacchetti, miscelati con torba, e poi gran parte viene venduta anche in industrie, che hanno bisogno di una frazione organica, e lo usano con cime organiche, non minerali. Tutto complesso viene aspirato e tenuto in depressione. L'aria in aspirazione è anche l'aria primaria per le biocelle, per dare ossigeno alle biocelle. Una volta passata attraverso la biocella, passa per un scrub biologico, e poi passa per un elettrofiltrante. Il elettrofiltrante è sempre costruito da un legno, sempre un legno di recupero, che otteniamo dalle prime variature quando entra il verde. Il elettrofiltrante lavora in temperature intorno a 35 fino a 42 gradi, ottenuto in umidità intorno al 50%, e qua lì fa l'abbattamento di tutti i componenti organici che vengono trasformati dopo in acqua e vapore. Digistone anaerobica, il secondo processo, può dire che il primo flusso della parte solida aerobica, il secondo flusso anaerobica. Abbiamo contenitori grandi che hanno un volume di 5.000 metri cubi, dove viene ottenuto un processo il forso viene caricato da alto, e poi abbiamo una miscelazione internamente che è molto importante. Il digestore viene mantenuto in temperatura di 52 gradi, lavoriamo con microorganismi mesofili, e trasforma la fraccione organica in CH4 e CO2. Attraverso un miscelatore misceliamo tutta la massa, il flusso di questo miscelatore è pari a 3.500 metri cubi a minuto, per garantire che la fraccione organica, che ha un peso specifico, è menore, che viene miscelata con i microorganismi. questo non è un sistema batch come le biocelle che vengono caricati, questo è un sistema di continuo. Per garantire la differenza di quello che è stato fermentato, non fermentato, viene usata la teccia. Il fraccione organica che non è fermentato, ha un peso specifico menore, e quello che è fermentato, scende giù, perché ha un peso specifico maggiore. Il condotto di scarico è fatto nel fondo, e lì tramite la pressione sua viene scaricato. Per mantenere la temperatura abbiamo un prelievo di liquido sempre da basso, passa per un scambiatore dove passa l'acqua calda del motore e viene messo sopra. Anche questo aiuto per miscelare tutta la massa. Alla fine, per spinto su, abbiamo condotto l'aspirazione del biogas e poi va avanti nei vari impianti per produrre o energia elettrica o biometano. I processi sono molto, molto importanti per garantire la continuità, perché i microorganismi hanno bisogno di una continuità, non è una macchina che può accendere e spegnere. Sia le biocelle sia la digestione aerobica devono lavorare 24 ore su 24 e 365 giorni sempre sulle stesse continuità. Per garantire un processo continuo abbiamo creato un sistema che controlla tutti i processi del parametri del processo in caso di una variazione nel processo automaticamente il sistema manda un messaggio all'operatore indica dove c'è il guasto e la difficoltà e gli operatori intervengono. vuol dire non è c'è un operatore che controlla il sistema che funziona tutto è proprio il sistema che controlla se stesso e manda l'operatore quello che c'è da fare e dove intervenire. Adesso iniziamo alla produzione di energia elettrica. Abbiamo installato motori sono motori costruiti in Austria sono motori 4 tempi che trasformano il biogas in energia elettrica sono motori 4 tempi questo è un esempio di 20 cilindri con potenze di 1400 kilowatt elettrici poi di sotto abbiamo battimento di fumi tramite un post combustore e poi abbiamo il recupero termico delle fumi qua sopra vedete 4 motori che hanno un rendimento elettrica di 40% e poi abbiamo un energia termica disponibile di 42% a est abbiamo creato un sistema di telerescrivimento qua vedete la linea dove portiamo via l'acqua calda 85 gradi nel centro di est e nel centro di ospedaletto dove abbiamo collegati utenti privati e tanti fabbriche anche strutture come scuole piscine abbiamo collegato anche l'ospedale e poi il cliente industriale la comazzo che usa il nostro calore per riscaldare tutto il sabbamento dove lo vanno 400 operatori più il box di verniciatura per asciugare i mezzi il calore viene usata anche per mantenere le temperature nei digestori i nostri uffici e poi a fianco abbiamo anche sera di controvisione fiori dove manteniamo le temperature tramite il raffreddamento dei motori facendo tutto questo abbiamo una centrale che ha un rendimento che supera il 60% il 40% energia elettrica più l'energia termica che non riusciamo a recuperare tutto l'anno perché l'estate non abbiamo consumo però mediamente superiamo il 60% vuol dire abbiamo una centrale con efficienza altissima finita la digestore anaerobica abbiamo il liquido il liquido che viene fuori del digestore entriamo intorno nel 16 fino al 18% di sostanza secca e poi in uscita abbiamo il liquido che ottiene ancora il 7% di sostanza secca di cui 80% 90% dell'organico che c'era dentro è stato trasformato in CH4 e CO2 il restante è soprattutto l'asoto tutti i componenti organici sappiamo che l'asoto è carbonio e lì è stato trasformato in il carbonio è stato trasformato e l'asoto è rimanente per eliminare o portare via l'asoto abbiamo il depredatore biologico viene tramite vasche areata e vasca di dentifrazione viene nitrificato l'ossigeno da ammonio viene trasformato in nitriti e nitrati e dopo di che passa per la dentifrazione dove viene proprio tolto l'ossigeno e rimane l'asoto come elemento l'asoto dopo va a finire in atmosfera finita la parte biologica viene trasformato viene trasportato il liquido verso l'utrofrizzazione 004 micron e poi i microrganismi tornano nella vasca dove abbiamo ossidazione e poi l'ultifiltrato passa per l'osmosio inversa l'osmosio inversa purifica al 100% dell'acqua abbiamo per esempio un condizibilità sotto i 400 micro sim inversa vuol dire sotto l'acqua potabile che abbiamo nel rubinetto e quelli usiamo come il nostro acqua di processo il concentrato ovviamente filtrando tu hai due flussi 30% diventi concentrato lì ottiene sali o intiene minerali che una parte va a finire nell'impianto di compostaggio per modificare i cumuli e una parte usiamo per diluire il forzo che va nel digestore qua sotto vedete le membrane sono proprio tubulari con membrana interna dove abbiamo flusso dell'acqua e dopo viene con leggermente di pressione aspirato il permeato del fango e dopo per l'osmoso inversa con 50 bar passa per la membrana osmotica queste sono le nostre serie che abbiamo a fianco del nostro impianto est lì dimostriamo i risultati dell'impianto abbiamo quattro prodotti i primi prodotti l'energia elettrica che usiamo per fare funzionare le luci elette di notte abbiamo l'energia elettrica per raffreddare l'estate perché manteniamo la temperatura sempre controllata anche l'estate tramite l'evaporazione e quelli usiamo l'acqua nel depredatore raffreddiamo l'ambiente abbiamo l'acqua stessa che usiamo per umidificare l'ambiente ma anche dare la birra alla piante abbiamo substrati che usiamo come substratto sempre per consumare le piante e alla fine il colore per mantenere anche l'inverno una temperatura costante interamente della sera così facciamo proprio vedere con il nostro processo il ciclo ricupro c'è anche un altro ricupro in questa sera che non è scientifico ma è un ricupro sociale abbiamo una cooperativa Monterrico che sta dietro le persone e soprattutto le mamme che hanno bambini che hanno problemi di droga o l'alcol vengono ricuperate queste mamme aiutate le bambine perché alla fine sono loro i vittimi del problema sociale e noi usiamo questa sera per farle riintegrare nel sistema sociale poi le vendite delle piante e quella lì viene utilizzata sempre per aiutare queste persone la prima parte per ricoprare queste ragazze viene fatta internamente le sere che hanno internamente il loro stabilimento dopo partono successivamente il nostro impianto e poi alla fine vengono rintegrate il nostro sistema il biometano alla fine il biometano è un processo abbastanza semplice il biogas che è stato prodotto tramite digestione aerobica che va normalmente sui motori a scoppio per la macchina non è sufficiente o per la rete non è sufficiente dobbiamo purificare maggiormente abbiamo la remissione dell'acqua 2S il digestore esce con un biogas che ha ancora 500 ppm di acqua 2S dentro tramite un scrub facciamo l'abbattamento lo portiamo intorno a 200 ppm iniziamo a raffreddarlo a 5 gradi raffreddando una parte da esolfo viene portata via una parte da VOC tutti i commenti organici viene trasportata via e dopo di che passiamo dal carbonio attivo per proprio togliere 100% il esolfo viene portato a 0 ppm quelli facciamo con le temperature basse perché i carboni attivi che usiamo sono impregnati e hanno bisogno di umidità relativa alta dopo di che portiamo il gas a 40 gradi andiamo a carboni attivi sempre carboni attivi per l'abattamento di VOC tutti i componenti organici che sono dentro volatili lo portiamo completamente a 0 abbiamo una torre di lavaggio sempre con acqua del depreduttore abbiamo controflusso l'acqua del depreduttore che toglie tracce di esotero ammuricale l'ultimo abbiamo il compressore che compressa tutta la massa a 16 bar 16 bar e dopo raffreddiamo a 5 gradi così viene compresso e tolto completamente l'umidità la compressione non è perché dopo andiamo alle membrane e poi abbiamo una spinta emmenza per passare per la membrane per dividere la compressione viene fatta per diminuire il volume altrimenti le membrane devono essere molto grande perché alla fine la perdita di carico che abbiamo sulle membrane non è anche 0,2 bar vuol dire c'è poco o niente come perdita di carico sulla parte metano il CO2 esce e il metano esce a grandezza monocolare vuol dire viene filtrato a base grandezza monocolare alla fine otteniamo perché prima purificato tutto abbiamo tolto l'acqua 2 SVOC l'acqua otteniamo biogas che contiene solo CH4 e CO2 il CO2 va all'impianto di raffreddamento viene liquidificato sempre a 16 bar liquidificando il metano restante che è rimasto dentro rimane gassosa torna l'impianto di upgrading vuol dire lì abbiamo otteniamo un CO2 completamente assente di VOC e NK3 assente di H2S anche assente di metano viene liquidato e stoccato 16 bar meno 90 gradi e dopo venduto attualmente lo vendiamo come un gas tecnico in futuro vogliamo avere il food grade di usarlo ma anche sulle bibite gasate per esempio altrimenti tutto il nostro metano siamo dentro a produrre intorno 8000 kg 1200 9 metri cubi di biometano all'ora per il nostro flotte che fa la raccolta non solo ma anche i nostri bilici che fanno travasi tra gli impianti dove fanno travasi e portano le nostre impianti sono mezzi qua vedete un mezzo di trasporto con le bombole perché qua avete anche un camion un Scania che ha 420 cavalli con un'autonomia di più di 600 km quelli usiamo da portare il gas compresso nei vari siti dove facciamo la raccolta dove facciamo travasi perché un furgoncino come questi qua non può fare tante strade può fare 15 km non può fare di più per andare per esempio al rifornimento del metano lo portiamo noi con i carri di bombolai abbiamo anche i nostri attrezzi per esempio un autospurgo già installato originale Scania con metano e questo è un biobus atta l'abbiamo inserito perché siamo qua a Pordenone e che può essere utilizzato anche come metano normale sulle bus e questo alla fine i processi che abbiamo ma questo l'economia circolare è quella che facciamo noi alla fine dove portiamo il scarto di cucina il scarto di cucina viene trasformato tramite upgrading in biometano così possiamo andare a ricogliere di nuovo il materiale scusa il digestore trasforma in biogas in acqua e compostaggio con il recupero ovviamente l'esotto perché l'esotto è una parte dell'esotto romano dentro la parte solida che va dentro e il fosforo diventa un fertilizzante riproduce l'organico e l'organico dopo torna nel nostro impianto alla fine un processo completamente naturale non vengono aggiunti prodotti chimici non viene aggiunto niente enzimi vari tutti processi che si autosistene controllando i parametri alla fine facciamo niente altro che fa la natura solo ricopriamo il calore che in altrimenti nella natura andava persa e ricopriamo l'acqua assumendo volevo farvi vedere facendo questo facciamo un po' quello che è stato spiegato nel 1985 nel 1985 spiegava nel ritorno al fatturo che il prof era in grado di volare nel 2015 noi siamo già nel 2019 siamo molto vicini non così bravo come l'ora il 1985 comunque si vede quando andiamo a vedere con il nostro umido quello che siamo in grado di fare con 130 kg di umido riusciamo a ottenere 12 metri cubi di biogasse separando riusciamo a ottenere 5 kg di biometano mettendo questo dentro la macchina riusciamo a fare 100 km alla fine quando vai a vedere il nostro umido un 20% è sostanza secca quando andiamo a vedere una banana e patate abbiamo anche di più acqua dentro vuol dire la sostanza secca con cronometri siamo quasi al stesso livello da un carburante fossile un po' futuro abbiamo già adesso si vede sul mercato tantissime macchine che vanno già cng cng esattamente con il nostro biometano questo è un esempio un a5 con la bombola qua dietro che vanno tranquillamente con il nostro biometano riassumando una tonnellata di scarto di cucina vuol dire un metro cubo perché alla fine la scarto di cucina ha un peso specifico quasi uno a uno vuol dire mille chili a un metro cubo siamo a 960 970 chili al metro cubo manteniamo un 160 metri cubi di biogas possiamo produrre 400 kilowatt di energia elettrica e 400 kilowatt di energia termica non tutte le termiche riusciamo a ricoprire perché dipende ovviamente da stagione 90 kg di biometano e con quello riesce a fare 1800 chilometri in strada sono tutti numeri un po' tondati però qualissimo nella possibilità ho 64 kg di anidride carbonica e con quale riesce a produrre 5500 litri di bovande gasate poi abbiamo 500 litri di acqua attualmente in questa zona abbiamo già avuto tante però sono tantissime zone in Italia o nel mondo dove l'acqua è un risorso molto importante e poi abbiamo 200 kg di fertilizzante organico nel compost per ottenere un buon umido abbiamo siamo dietro a sensibilizzare il pubblico e lo facciamo soprattutto alle scuole questo è un esempio un brochure che usiamo per i bambini a spiegare quello che siamo dietro a fare e così facendo siamo riusciti in Italia a nord in Italia e sul siamo ancora lontano di ottenere 550 kg di organico ogni famiglia si potrebbe arrivare anche 700 800 kg ma questo è già un buon risultato trasformando l'organico di una famiglia otteniamo 100 kg di compost ma anche un 45 kg di pimentano è pari un viaggio di una famiglia che può fare con l'umido prodotto e poi alla fine una cosa non sottovalutare l'indotto lavorativo perché buttando via non riciclando e smottendo in discarica alla fine con un paio di operai fai tutto creando questa economia ricicolare con 1000 tonnellate di scarti di cucina otteniamo un posto 1,5 posti di lavoro un impianto come quello di Sesa come quello di Bioman lavoriamo più di 800.000 tonnellate all'anno insieme scusami vuol dire abbiamo più di 1000 persone operative grazie per l'attenzione ho visto che lei ha corso veloce ma insomma se ne ho sbagliato un litro un chilometro più o meno tu devi vedere un chilo di metano equivale a 0,8 di gasolio vuol dire ha un potere maggiore con fonte gasolio e quanti chilometri faccio? con un chilo con un camion se è intorno a 3,5 o 4 ovviamente dipende quando hai proprio un carico di 45 tonnellate complessive per fare esempio sull'Audi che mostrava un Audi è l'autonomia io stesso uso un Audi A5 a metano a biometano con 18 kg faccio 350 km tranquillamente con una velocità normale 18 kg con 5 kg come benzina una macchina normale riesce a fare tranquillamente 100 km il mio diesel mi dia va bene l'unica difficoltà che hanno ancora questa macchina piccola è che la bombola io ho 18 kg no spazio in una macchina non lo vedi con la prima hule ho il stesso volume manca la rotina di scorta però ho il stesso volume dietro poi 18 kg sono 350 km di autonomia non sono tantissimi lavorando qua per me finché è sufficiente posso dire sulle membrane osmotiche perché i fattori di minerali sono di fabbricazione italiana o sono comprate in Israel no sono comprate in Stati Uniti questi sono americani le aziende americane hanno sviluppato molto su quell'aspetto lì per garantire acqua potabile così si parte dal mondo e quali sono le membrane l'ultiflutazione vengono dal biarico sono olandesi ringrazio moltissimo ringrazio moltissimo l'ingegner smet io spero di avere l'occasione di poter visitare quel meraviglioso impianto che ha illustrato col mio corso di tecnologia delle energie rinnovabili quindi faccio conto che potremo avere questa magnifica sinergia e lo ringrazio moltissimo ancora una volta per aver utilizzato l'esempio di ritorno al futuro che è quello che illustro sempre io e i miei studenti come il sogno dell'ingegnere energetico buttare la birra la birra finita e la buccia di banana dentro il Dr. Fusion e far volare la DeLorean grazie